Sindaco, siamo quasi arrivati, il giro arriverà a Santa Ninfa. Come state vivendo questa avventura? Con grande passione e grande lavoro. Stiamo organizzando tutto, sia l'accoglienza sia l'aspetto organizzativo, quindi siamo quasi pronte. E devo ringraziare tutte le maestranze di Santa Ninfa che ci stanno dando una mano in maniera fattiva affinché questa tappa sia un successo per tutto il territorio. Il giro è anche divertimento ma è anche istruzione, quindi scuola. Che rapporti avete con le scuole? Ottimo, noi abbiamo oltre a un rapporto sinergico con le scuole presenti a Santa Ninfa abbiamo un rapporto che abbiamo restaurato da qualche mese con l'istituto superiore Crispi di Ribera che ci sta fornendo dei consigli tecnici e ci sta fornendo anche del personale, cioè dei ragazzi che con il progetto alternanza scuola lavoro saranno gli artefici dell'accoglienza per la tappa del Giro d'Italia che arriverà a Santa Ninfa. Quest'anno abbiamo realizzato tantissime attività con la possibilità dell'alternanza scuola lavoro. Uno di questi progetti è questo collegato al Giro d'Italia. È sicuramente un grande successo sia per le convenzioni che abbiamo stipulato con il Comune di Ribera e con il Comune di Santa Ninfa ma soprattutto perché la bicicletta è un amore nuovo per i nostri ragazzi. Il piacere della bicicletta è stato riscoperto grazie a questo Giro d'Italia dai ragazzi delle terze e del quarto del nostro istituto Crispi e soprattutto dell'indirizzo turistico e questo gli ha permesso di riprovare il piacere e l'ebbrezza di una possibilità di trasporto a costo zero. Il progetto è molto interessante perché i ragazzi sono stati messi a contatto con i ciclisti, hanno avuto la possibilità di intervistarli, hanno avuto la possibilità di conoscere meglio il nostro territorio da un punto di vista geografico, culturale, economico, sociale, paesaggistico e questo ha cresciuto la loro motivazione allo studio e chissà può essere che questo li aiuterà a trovare la loro strada da diventati adulti. Un progetto nuovo, un progetto che è stato voluto fortemente da me con il professore di geografia dell'istituto che vuole portare il ciclismo nella scuola, un ciclismo che attraversa durante il percorso del Giro d'Italia la nostra Sicilia con dei posti turistici interessanti, tutti i siti UNESCO e noi con il corso turistico di ragazze della quarta e della terza turistico vogliamo far scoprire assieme al Giro d'Italia le bellezze del nostro territorio.